A suonato alla porta la nuova moda per la bella stagione, siamo invitati in un palazzo romano all'anteprima della sfilata fiorentina che per la sua nona replica radunerà 300 acquirenti internazionali. Il vestito verde in rodia annuncia la linea banjo che è tra le novità del 55, stessa linea e stesso tessuto in quello giallo col collo di organza che forma nodo, in quest'altro una fioritura in rilievo di rose rosse a cui rispondono sul dorso ciuffi di uguale colore. Nylon italiano e rodia sono i tessuti protagonisti di questa esposizione, un raggiare grigio e nero su fondo bianco, la guarnizione di gros pieghettato ed è ancora il nylon a prestare le sue risorse alle strisce laminate che sfumano sul rosa nel modello di organza. Qui sull'organza celeste si sfogliano a giri le margherite, non chiederemo ad esse l'oroscopo della moda, è già rivelato anche da questo modello dove le tasche fanno cintura. Un busto del Berlini con i suoi panneggi ammira la fluida linea di attualità. Il tardo pomeriggio, ora degli aperitivi, si prolungherà in una riunione serale. Minuti ricami galleggiano su un color di mare, una scolatura con fiocco sul dorso e un'altra aperta a punta. Il corpetto profilato di picchè bianco si alza su un'ampia gonna arricciata. Per ricevere l'amica in laminato d'argento la padrona ne rifrange la lucentezza nel brillio dei piccoli bottoni di strassi.